buongiorno ragazzini anzi buon pomeriggio buongiorno sono andato a prendere la ragazzina qui la scolaresca verde 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 andiamo 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 lì lì è luigi guarda il figlio ancora non è quello di dire se non ci interessa e infatti camminate sì bravo dammo vai avanti usa qui molto fissa a rete eh niente mi ha fatto uno sguardo ci mi esco una uccia sta arrivando sta arrivando non mi chiedere di aprire che non altro non lo puoi vedere a quella c'è come la cosa non è che non lo posso vedere andiamo di fretta ma adesso è rosso no ma te l'hai fatto passare tu il rosso no ma c'erano le macchine avanti li no sei zitta e guarda 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 eccolo è grande è grande grande sì Sì, 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 sì Sì, bello, gattina Ho messo le scarpe nuove Beh, ho messo uno Te l'ho detto Sì, su questo era un po' convinto Comunque ragazzi Giorno 20 Pre-ricovero al naso Un pre-ricovero per l'intervento al naso Spero che non ti fanno passare un sacco di tempo Come Il pre-ricovero dell'altra volta di marzo Ma ce la cani la canzone La chiamone a Cinesine No, a Cinesine La chiamone a Cinesine E te ne lo chiamo Grande Manco la bocca, baciamo le mani Grande Luigi Però il ritornello ci doveva fare Eh Vabbè Ok, come si vede Vedete? Sto dando la mano a Lucia a svuotare la vostra oveglia Vedi? 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 Sto dando la mano Basta che non mi rompete più le palline A dopo Ciao ragazzini Mi sono fatto un pesolino E quando l'ho chiamato io Sapete cosa mi ha risposto? E come una bugia Sì Io ho detto Amo dai svegliati che dobbiamo cenare E dobbiamo vedere Luca se mi risponde Sì Quando arrivi fai lo squillo Cioè Adesso vedi che Dobbiamo cenare Non me ne sto andando Ho fatto apposta Sì Ho fatto apposta Comunque ho visto una bugia di Banderas Mmm Le focaccelle Sono ancora morbide E anche domani E anche domani Nei giorni d'oggi Mmm La focaccella Ancora morbida Quella sta Ma è un poco dura Quella sta Ma Eeeh Anche domani E dopo domani Anche se è dura E anche se è dura Quella la mangia Che c'ho Ognuno ha le sue focaccelle Mmm Beh Già sta Arronzato come un'ape Vedi che è Dupa 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 Ciao E' iniziato Masterchef Ciao Jeff Ciao Jeff Ragazzini Delle 23.17 Beh Stiamo andando a letto presto dai Però L'inverno Non vuole entrare Cioè Sta ancora questo Fastidiosissimo E noiosissimo Caldo E siamo a 15 Ah Doveva fare qualcosa al computer Eh vabbè Lo facciamo domani No Molta Domani è 15 Boh Comunque Guardate i piedi Guardate Oh Perché i piedi No No Ecco Li ha firmati Nooo Che Hai rotto la presa No Devi ringraziare solo che Non si è andato giù Calcio Pam Calcio Oh Oh Beh Hai rotto Nooo Te lo devo passare da sotto Ha rotto la presa Ha rotto Non mi ha rotto la presa Si è incastrato E no Dobbiamo spostarlo Perché? Ti è bloccato il letto Vediamo Non puoi tirare un po' No no che tiri Aspetta aspetta Non lo puoi fare da sotto Nooo Qua è Perché me lo devi rompere? Palle Metti No Dai due secondi Devevo tirare l'acqua avanti Dai tiro Non ce la fai Si vai 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 tiro che ce la faccio Due Aspetta aspetta Dai Che Tre due uno Ok Non ce la fai 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 Che? Che vuoi qua? Uno Due Tre Non si è spostato Eh ma spostato? Vedi uno che vuole riposare Non si era spostato Vabbè comunque Com'è? Non si è spostato Vabbè Che hai detto? Non si era spostato Anzi non si è spostato Comunque Non fa niente Oh che affanno che c'ho Non ho fatto niente Apetta che Fai per non ti muovere Ok ha messo a fuoco Non hai fatto niente Oh Beh che dire? Niente Che il caldo non vuole andare via Oggi nonostante c'era in televisione Masterchef Anzi Masterchef Masterchef Abbiamo mangiato panini E beh Voglio dire non questa grande cena Però 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 Ho letto Su internet Mi hanno mandato una ricetta La parmigione di patate Parmigione di patate? Si ha un parmigione di patate Però non è che c'è Chi te l'ha mandata? L'avevo già letta però poi tua madre me l'ha mandata E l'ho let e si può fare E poi Amasa Jeff Ho visto Ho visto Ho visto Una cosa Che Vorrei riprodurre Non so come mi potrebbe venire E come Perché ho solo visto Non hanno detto Gli ingredienti Ho visto semplicemente come la preparavano Vedere una La parmigiana? No Ah La cookie La La biscuit 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 No La biscuit Di mais Con la base di marmellata di peperoni E il mascarpone al basilico E quindi la voglio rifare Per vedere com'è Io porto sempre delle parti piccole Cioè non parti piccole Quindi dice Parto sempre da una Mini Mini porzione Si Qua Qua Si Si Dai Ti prendi Sto facendo più i muscoli Si Si Mini porzione E poi Vediamo Se è buona da fare Ti ripeto qua Fatti i fatti tuoi Lasciami i piedi Non dico più con le mani Sennò vuoi su Dami i piedi Fatti i fatti tuoi Eh da Si Sotto Guardi quanto è bella La mortazza Sembra una ciapattina Sembra Il pane Io tra un po' me ne vado a letto Ma vedo un po' di Rispondo a qualche commento di Facebook E poi a Ninna Ok Va bene dai Beh ragazzi Io sto così Il video di oggi termina qui Avete visto oggi il grande Luigi Toro Che dire Un personaggio Guardi vedete commentate Dai siamo arrivati a 51 iscritti dai Grazie 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 a tutti Ciao 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 Ciao